Il Comune della Spezia ha annunciato l'apertura per il bando dell'assegnazione delle case popolari. Qual è la posizione del sindacato degli inquilini? Sì, i sindacati degli inquilini, il SUNIA, SICET e l'UNIAT, abbiamo appunto fatto un comunicato stampa unitario perché è da tanto tempo, da più di un anno, che sollecitiamo la pubblicazione del bando per l'assegnazione delle case popolari perché questo è uno degli strumenti principi per cercare di contrastare il problema della casa. Al tempo stesso abbiamo chiesto più volte che venga stralciato, venga eliminato l'articolo che prevede per l'accesso al bando a essere residenti da cinque anni nel bacino d'utenza, facciamo un esempio, nel Comune della Spezia. E questo perché ha una pregiudiziale molto importante, quella della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale in Lombardia ha dichiarato questo articolo incostituzionale. Quindi la vostra proposta immediata qual è? La nostra proposta immediata è che speriamo che i nostri appelli che da tanto tempo appunto lanciamo al Sindaco, al Consiglio Comunale, attraverso la Commissione Consigliare, a tutti i rappresentanti delle istituzioni che ruotano attorno a questo tema, è quello appunto di stralciare, togliere questo articolo perché porterebbe senz'altro il bando a dei ricorsi e questi ricorsi andranno sicuramente a buon fine perché appunto la Corte Costituzionale ha detto che quell'articolo che deve essere residente per cinque anni per accedere al bando è anticostituzionale e quindi ci rimetterebbero solo gli inquilini e che aspettano da anni questo bando e quindi ci sarebbero centinaia di famiglie che ancora una volta vedrebbero rinviata questa agognata assegnazione delle case popolari.